Mi chiamo Ivana Pelegatti, sono nata nel 1948, il 16 maggio, e ho cominciato la mia esperienza in fabbrica facendo l'operaia. Sono andata in fabbrica neanche 16 anni e ho cominciato prima con le commissioni interne e poi col consiglio di fabbrica. La mia esperienza sindacale l'ho fatta soprattutto dopo un'esperienza di lotta di fabbrica. Nella mia azienda c'erano dei licenziamenti, abbiamo occupato la fabbrica per 40 giorni, siamo usciti vincitori, nel senso che sono stati ritirati i licenziamenti e io ho iniziato a fare politica. Pur essendo nel consiglio di fabbrica, ho fatto l'attivista nel partito, mi sono iscritta al partito comunista, sono uscita dalla fabbrica, ho salito le scale della sezione e poi da lì ho cominciato un'attività, come posso dire, sempre più attiva nel mondo sindacale. Sono entrata nel direttivo della filea, perché la mia era un'azienda del legno e nel direttivo camerale. Poi hanno chiesto nel 1976 il distacco e io sono entrata nella segreteria della filtea seguendo il sindacato Tessili per tutta la zona dell'Alto Polesine. Ho fatto questa esperienza, poi sono diventata segretario generale della filtea e contemporaneamente sono entrata nella segreteria camerale. Poi è finita l'esperienza della filtea, mi hanno chiesto di occuparmi a tempo pieno nella segreteria camerale della politica del lavoro e della sanità. Ho fatto questo lavoro, questa attività fino al 1987 quando ho smesso di fare sindacato perché sono stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste del partito comunista. La fabbrica si chiamava ICAP, Industria Compensate a Fini Polesana. Eravamo circa 130 lavoratori in un Nello che allora aveva intorno ai 3.000 abitanti, quindi gran parte delle famiglie dipendevano dal lavoro di quella fabbrica insieme allo zuccherificio che a Ficarolo è sempre stato un punto di riferimento lavorativo molto importante. Teniamo conto che all'inizio degli anni 70 abbiamo avuto, quando appunto noi abbiamo iniziato questa battaglia in fabbrica, abbiamo avuto una delle prime crisi industriali con licenziamenti, casse integrazioni, quindi una situazione molto particolare in una provincia che non ha mai avuto grandi aziende e quindi è sempre stata terreno di conquista da parte di aziende fuori provincia. Avevamo molto decentramento nel Tessile, avevamo piccole realtà in altri settori ma sempre con aziende che stavano fuori dalla provincia di Rovigo e quindi molto molto debole, diciamo così, la struttura industriale della provincia. Noi veniamo da una provincia che sostanzialmente prima era molto bracciantile, molto agricola e quindi abbiamo avuto un passaggio importante da braccianti a operai e si sentiva anche nel modo di condurre le lotte. È stata un'esperienza significativa, noi ci siamo trovati nel giro di poco tempo ad avere da parte dell'azienda la richiesta di licenziare un terzo dei dipendenti, quindi su 130 operai una quarantina dovevano essere licenziati. Abbiamo deciso di occupare la fabbrica, uno sciopero che è durato come vi ho detto 40 giorni con dei momenti anche difficili perché a dei padri di famiglia che avevano come unica entrata lo stipendio, il salario che prendevano in fabbrica, costringerli a 40 giorni senza salario era difficile e allora abbiamo incominciato a ragionare con questi lavoratori, con questi compagni che avevano responsabilità anche diverse rispetto a me ad esempio che avevo dei genitori, che avevo una famiglia quindi non ero l'unico sostentamento della mia famiglia, abbiamo cominciato a ragionare in maniera diversa, cioè arrivava, abbiamo aperto sottoscrizioni, arrivavano aiuti e ad esempio il sabato si spartivano i soldi, stabilivamo come gruppo che coordinava la lotta della fabbrica a chi dare qualcosa in maniera che potessero portare a casa qualche qualcosa insomma per la famiglia e poi è arrivata l'ultima settimana abbiamo avuto notizia che l'azienda aveva richiesto lo sgombero della fabbrica utilizzando la forza pubblica e allora abbiamo mandato via tutti gli uomini ci sono rimaste noi, tutte le donne, abbiamo detto vediamo che ha il coraggio di mettersi contro le donne e non è successo niente, non è arrivata la forza pubblica e la settimana dopo abbiamo fatto l'accordo che ha rispinto i licenziamenti, ha posto i lavoratori in cassa integrazione che poi alla volta un po' alla volta abbiamo ripreso, insomma abbiamo riassunto. Poi in quegli anni non bisogna dimenticare che abbiamo avuto tutta la parte del terrorismo e nella camera del lavoro di Rovigo non ha messo una bomba che fortunatamente non è esplosa nel momento in cui c'erano lavoratori che stavano facendo il direttivo, l'ha vista un operaio, insomma si è riusciti ad attenuare lo scoppio e quindi i danni però li abbiamo avuti, è stato un periodo pesante il periodo del terrorismo perché dovevamo cambiare strada, non dovevamo mai dire dove eravamo e quindi anche nelle famiglie è stato un periodo molto pesante ma la vicinanza di Padova e con Primalinea eccetera noi avevamo problemi. Quando è stato fatto saltare il carcere a Rovigo per liberare la compagna dell'esponente di Primalinea, io ero alla CGL, me lo ricordo quel giorno, il secondo, era il 2 gennaio abbiamo dovuto partire, essere tutti a Rovigo e organizzare poi tutta una situazione di scioperi, di lotta era molto sentita qui tutta la parte che riguarda il terrorismo Io sono sempre stata una militante del partito, lavoravo al sindacato ma andavo nelle cucine della festa dell'unità, lavoravo al sindacato ma andavo a diffondere l'unità, lavoravo al sindacato ma andavo anche a fare gli iscritti però al partito, però il partito non ha mai posto, non mi ha mai posto problemi di caratterizzazione dentro il sindacato cioè io ho sempre seguito una strada dal punto di vista sindacale che era, una volta veniva chiamato operaista che era molto legata al mondo del lavoro, cioè io mi immedesimavo molto per fare un esempio, quando sono entrata in sindacale, sono andata in campagna elettorale per la Camera lo slogan era porta in Parlamento il mondo del lavoro perché io rappresentavo veramente l'operaia che era diventata sindacalista e che riusciva a parlare con i lavoratori in un certo modo, con questo nuovo modo di fare sindacato indubbiamente con una formazione diversa ecco